Alfredo Izzo, Festa dei Quattro Altari 2024, prima edizione del Forum Young Festival, sul palco artisti locali emergenti. Ci tenevamo ad avere uno spazio per gli artisti emergenti perché ci sono tante difficoltà, dopo il Covid abbiamo vissuto momenti difficili, era importante avere uno spazio comunale a disposizione di questi tanti artisti giovani, devo dire al bando di partecipazione che abbiamo aperto circa dieci giorni fa hanno partecipato 25 artisti emergenti, selezionare i più bravi è stato difficile però erano davvero tutti meritevoli. Alla tradizione dunque si unisce l'innovazione attraverso i giovani. La Festa dei Quattro Altari torna dopo ben 16 anni, era importante avvicinare i giovani a questa tradizione, a questa festa che rappresenta Torre del Greco qui al sud ma alla fine in tutto il mondo. Grazie a tutti.